Un saluto dal Tg della Mobilità. Nella Metro B sono terminati i lavori nella stazione Castro Pretorio per sostituire gli ascensori e quattro scale mobili. Per la riapertura della stazione bisogna ora attendere i collaudi del Ministero delle Infrastrutture e le successive autorizzazioni per riattivare gli impianti. Ricordiamo che tra Termini e Tiburtina è ancora attiva la navetta MB20 che ferma vicino alle stazioni Castro Pretorio e Policlinico, anche quest'ultima chiusa per lavori. Le altre notizie resteranno chiusa sino al 22 luglio la biglietteria nella stazione Lepanto per i lavori di ristrutturazione dei locali e dal 19 al 22 luglio chiuderà anche la biglietteria nell'atrio della stazione di Porta San Paolo. La chiusura in questo caso servirà a trasferire la postazione nei nuovi locali vicino alla stazione Piramide della Metro B. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.